Sì. Un caloroso benvenuto a tutti gli amici appassionati di belle auto, di motori fantastici appassionati di uno che cammina alla grande, che lo seguirebbero ovunque quel qualcuno è il mio caro amico Stefano D'Aste ed è in diretta dalla sua PV Racing. Ciao Stefano la culla del marchio Lotus in Italia. Ciao Stefano, come stai? Dai, stupido ma che ho fatto due ore di storia due ore di provare i microfoni perché ci ha collegati più i microfoni ma quello che va bene è uno solo e l'ho beccato, mi sa che è quello Ciao Stefano. Bene, bene Ciao Frank, tutto bene? Tutto bene, dai siamo in grande forma. Senti, so che sei Reduce con la tua struttura con Maurizio Fortile e tutti i tuoi ragazzi da un tour de force non male perché è un momento diciamo storico per Lotus Lotus che sta facendo un'evoluzione incredibile dal punto di vista dei prodotti, della tecnologia non che quella mancasse c'è sempre stata però c'è un passo sicuramente epocale che sta contraddistinguendo questo marchio meraviglioso creato tanti anni fa da Colin Chapman Stefano, raccontaci cosa è successo in questi giorni che tipo di indicazione avete ricevuto non so cosa hai toccato ma ti vedo, continuo a vederti perché se no non ce la fa star fermo ragazzi non ce la fa è il mio bambinone allora Stefano com'è andata? so che siete riduci da delle fiere sono due grandi novità Elettre e Mira per cui se siete d'accordo io partirei dal SUV perché la storia sta cambiando una storia stravolta qualche lotussaro diciamo qualche amante dell'Otus magari ma fa ancora fatica a comprendere che l'Otus si stia buttando in un segmento così così diverso da quello che era la sua no? la sua genealogia la sua storia i principi di Colin Chapman però forse non si sta allontanando così tanto o no Stef? no no non si sta allontanando così tanto no secondo me no assolutamente scusami ma c'è Luca che mi fa dei segni subliminali no allora non si sta no secondo me non si sta allontanando così tanto anzi cioè la filosofia pur noi dobbiamo allora vabbè diciamo che questo è un discorso abbastanza vasto però se noi pensiamo al contesto attuale comunque quello che sta facendo Lotus è assolutamente comunque non è distaccato dalla filosofia del marchio perché hanno prodotto una macchina che è elettra che è assolutamente innovativa come a tutte le innovazioni noi Colin Chapman era era un genio il genio il genio di Colin Chapman pronto? mi senti? ma no ti sto facendo mandare l'immagine scusami con l'audio vai no no dicevo che Chapman era un genio perché lui riusciva ad arrivare prima degli altri a pensare a determinate soluzioni che potessero far andare più forte le sue vetture e renderle più performanti e quindi era chiaramente nell'attualità nella contestualità di quel tempo ricordiamo tutte le innovazioni che ha portato Colin in Formula 1 che sono veramente allucinanti a partire dalla pendice aerodinamica le minigonne effetto suolo il telaio monoscocco in carbonio le sospensioni attive adesso qua vediamo le immagini delle lettere e lettere alla fine ad oggi se noi pensiamo alle dimensioni che ha e già non solo al peso che ha non tradisce la filosofia Lotus è chiaro che poi i Lotus driver che ci sono stati dal 98 dal 97 96 97 in avanti sono stati abituati comunque ad avere un tipo di prodotto che era l'Elise nel 96 costava 50 milioni di lire non era sicuramente più l'Esprit che costava 160 170 milioni le ultime Esprit V8 costavano quelle cifre lì ed erano macchine che andavano in fascia con una Ferrari 355 e quindi un target decisamente più alto erano macchine anche più pesanti quindi è chiaro che il cliente medio Lotus che c'è stato dal 96 al 2018 2019 2020 hanno smesso adesso la produzione di Elise comprendevano una fascia di vetture con un target di prezzo più più basso ed è chiaro che per un appassionato che finalmente è riuscito se noi pensiamo che nel 98 uno si poteva comprare una macchina che aveva un marchio dello stesso prestigio di Ferrari Lamborghini Porsche tanto di cappello per questi marchi però si poteva comprare una vettura con un marchio del medesimo prestigio però ad una cifra di una vettura nettamente tra virgolette inferiore nel senso che con 50 milioni di lire uno si comprava forse un terzo di una Ferrari 355 comprare una BMW una serie 3 una berlina sportiva quanto vuoi ma non pigliavi una vettura per andare anche in vista divertente infatti oggi Lotus sta ritornando invece a produrre le macchine che 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 produttivano adesso cercherò di capire il senso di quello che sto dicendo sta ritornando a produrre delle vetture che hanno una fascia di costo inserita in un target che è quello bene o male che produceva che produceva Colin perché Colin produceva delle vetture economiche produceva delle vetture super performanti delle vetture che avevano delle soluzioni rispetto alla concorrenza super all'avanguardia ma non erano comunque vetture economiche ed erano vetture che chiaramente avevano l'orientamento alla prestazione la se guardiamo quello quello che ha fatto oggi se pensiamo ad oggi costruire una vettura che abbia solo se tu ti immagini oggi di costruire una vettura con quattro ruote con quello che una vettura deve avere oggi ed è obbligata ad avere per essere omologata è così impossibile farla pesare meno di 1500 chili poi è chiaro che se vogliamo fare delle chiacchiere da bar vabbè ma no 600 chili 200 chili sì va bene ma sono cose che non esistono più perché nel momento in cui dentro una macchina devi metterci 25 airbag 50 centraline per gestire tutto quello che deve gestire linea can ABS traction control solo a livello di cablaggio una macchina ad oggi solo di cavi e di centraline ha dentro un peso che è allucinante ma se noi pensiamo quello che ha fatto Lotus adesso ad esempio con Elettre o comunque quello che ha fatto con Evaya ma Elettre ha fatto una macchina che ha delle dimensioni enormi e che ha un peso contenutissimo quindi la filosofia del marchio è stata mantenuta poi è chiaro che quello velenato che dice che Porsche non doveva essere prodotta o Lamborghini non doveva fare dico Porsche intendo il Cayenne o la 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 chiaramente il mercato richiede quel tipo di vettura e quindi è giusto che anche Lotus vada a coprire quella fetta di mercato se vogliono finalmente produrre un tipo di vettura però volevo capire perché pensavo che il tipo di riflessione da parte del cliente che dice cavoli però non è più la Lotus da 50 milioni no? Ok mi sembrava tu fossi partito da quello adesso c'è un altro concetto che me lo aspettavo no? quello che perplesso come posso essere perplesso io quando altri marchi non so la Jaguar ha fatto il primo diesel station wagon o è uscito anche per loro il SUV e d'altronde è forse più un dolore che abbiamo noi appassionati di questo tipo di vetture che vediamo che comunque per forza di cose per adeguarsi al mercato bisogna andare a produrre dei SUV sono due cose diverse ti chiedo è più grave è più fatica a far comprendere al cliente che c'è un livellamento verso l'alto perché il prodotto è un prodotto che deve posizionarsi là giustamente o il fatto che l'Otus in qualche modo abbia introdotto un tipo di veicolo che non è storicamente nel suo DNA anche se Stefano mi permetto di farla vedere non è così vero che il Lotus non ha mai fatto una vettura con un DNA diverso ma sempre mantenendo certe caratteristiche perché la Lotus Elite questa è una versione del 74 era né più né meno come la Scimitar Reliant come altre vela Volvo P insomma era una filosofia che in quel momento funzionava e l'Otus ci si buttò successo non successo 2.500 vetture vendute però quello che dicevi te qua lo voglio ricordare poi ti lascio la parola è che questa vettura che comunque aveva 4 posti manteneva la filosofia di un motore piccolo di cubatura ma era leggera per cui era performante comunque perché pesava 1.200 kg mi sembra per cui se c'è già stato nella storia di Lotus uno sforzo in quel senso giusto forse che ci sia anche adesso o no? Assolutamente sono perfettamente d'accordo e anzi Franco guarda mi hai rubato le parole di bocca guarda io ti dico io sono contentissimo ma sono veramente veramente contento perché Letra a Milano ha sparagliato in un modo allucinante noi avevamo abbiamo avuto tre giorni di stand sempre pieno tra l'altro sono venuti tantissime persone e tantissimi personaggi personaggi di un certo livello anche a visitarci e io sono davvero contento perché la macchina è stata veramente apprezzata in un modo incredibile e quello che hai detto giustamente tu è che Chapman aveva già fatto una macchina simile quella che hai fatto vedere tu l'Elite a me ricorda molto cioè il chiave moderna è stata prodotta da Porsche con la Panamera come forma può assomigliargli un po' però Chapman l'aveva fatta allora quindi guarda io sono convinto che quelle lì siano tutte chiaramente chiacchiere da bar è che se ci fosse stato Chapman probabilmente oggi genio come era Chapman oggi avrebbe già in mano un ibrido tra idrogeno e elettrico e avrebbe già fatto il full electric magari cinque anni fa non lo so però lui era così arrivava d'altronde d'altronde sai la differenza la differenza tra lo stupido l'intelligente e il genio sta proprio in quello lo stupido è quello che fa l'errore continua a sbagliare e non impara niente dall'errore l'intelligente è quello che sbaglia dal proprio sbaglio impara e l'errore non lo fa più il genio è quello che prevede l'errore e Chapman era quello che prevedeva la soluzione innovativa quello che ha fatto Lotus di Grandioso oggi ragazzi qui hanno fatto veramente un prodotto pazzesco perché finalmente in un mondo che fa un po' paura a tutti per questione della durata e del tempo di ricarica loro sono usciti con una vettura che ha una potenza pazzesca e il tempo di ricarica che va sotto di mezzo alla concorrenza perché con la struttura del pacco da batterie da 800 volt tu pensa per fare un paragone la Tesla Model X che è l'ultimo ritrovato della scienza fantascienza di Tesla bellissima macchina non discuto poi le linee possono piacere non piacere ok però però ha la metà dei volt del pacco batterie della Tesla quindi della Lotus scusa della Lotus questo si traduce in cosa? che ci vuole più del doppio per ricaricarla e a livello di potenza è uguale perché Lotus ha fatto un pacco batterie da 112 kWh e in questo momento non c'è nessuno che possa e guagliarla poi andranno avanti gli altri ma va avanti anche Lotus tra l'altro ufficiosamente si sa già che che loro come gruppo i proprietari di Lotus stanno già lavorando e facendo probabilmente qualcosa per altre case essendo così tanto avanti d'altronde ora rendiamoci conto che l'azienda che ha acquistato Lotus oggi è proprietaria del 100% di Volvo del 100% di Smart che fanno solo macchine elettriche adesso del 100% di Lincoln Co che è il marco che ha costruito tutti i taxi elettrici di Londra per fare giusto un esempio ha preso delle quote di Benelli hanno il 15% di Mercedes e loro hanno comprato Lotus perché cosa hanno fatto? ma perché ci hanno visto lunghissimo si sono comprati un marchio probabilmente sono riusciti ad acquistarlo anche bene che ha un prestigio pazzesco e che aveva un potenziale in espresso che negli anni chiaramente è stato andato perso perché tutto quello che poteva fare Lotus era veramente tanto però non c'era economicamente non c'era la forza per poterlo fare e tu guarda guarda solo i prodotti con cui sono usciti adesso Elettre è una macchina che fa 600 km in economy run di autonomia questo vuol dire che economy run chiaramente per una macchina elettrica dobbiamo tenere in considerazione che l'accensione delle luci l'aria condizionata siano tutti ausiliari che possano generare un aumento di consumo ma ciò vuol dire che 450 km 500 km li fa tranquillamente in un utilizzo normale e quindi questo vuol dire che la vettura è una vettura quante persone ad oggi possono fare fanno un viaggio ogni giorno superiore ai 500 km quante sono poche e comunque con il fast charge tu la ricarichi ricarichi 400 km in 20 minuti questo vuol dire che è davvero davvero super avanti e diciamo che abbatte supera completamente il muro della paura di chi non è ancora completamente fiducioso dell'elettrico per questioni di durata e di ricarica della batteria poi è chiaro che mi dici se parliamo di un'auto qui stiamo parlando di una vettura che è un SUV è una vettura da tutti i giorni poi mi parli di un'auto sportiva allora l'auto sportiva elettrica faccio un po' fatica ad oggi ancora a digerirla però ti dico anche che io quando ero piccolo quando ero più piccolo che correvo con le RC con le macchinine telecomandate lo scoppio era bello però però l'elettrico all'elettrico alla fine era fighissimo ancora con l'elettrico e quindi non lo so poi è chiaro che io ho una macchina elettrica una macchina da corsa elettrica faccio fatica a vederla e il suono e tutto però ho una macchina da usare tutti i giorni d'altronde che la macchina tutti i giorni faccia rumore o non faccia rumore cosa cambia io sono rimasto impressionato dalle parole di un amico americano che lui è un architetto di Los Angeles e lui correva nella Lotus Cup americana con un Exige MK1 e lui si era comprato due Tesla ma parlo del 2017 lui aveva comprato due Tesla perché lui aveva una casa Lake Arrowhead che è un posto di montagna dove vanno tutti quelli i più fighi di Los Angeles vanno lì a sciare e tra l'altro aveva acquistato l'ex casa di Marilyn Monroe dove ci aveva invitato e mi eravamo andati a trovarlo e lui mi ha detto Stefano guarda tu non ci crederai ma io la macchina da usare tutti i giorni più bella del mondo per me è la Tesla perché mi ha detto col motore elettrico è di una comodità utilizzarla mi ha detto il problema è chiaramente la ricarica infatti lui se ne era comprate due perché una lui partiva da Los Angeles arrivava a Lecaro aveva quell'altra carica e poteva andare in giro lì tornava a casa è certo io questo lo capisco io sinceramente faccio fatica lo capirai perché personalmente non posso mentire a me stesso e alla gente che mi ascolta sanno benissimo come la penso ma lo sai anche tu come la penso io non vedo ancora la fattibilità di un mondo su quattro ruote elettrico nel momento in cui mi dimostreranno che per muovermi senza le problematiche che affronto tutti i giorni facendo pendolarismo pesante cioè 3, 4, 500 km al giorno reali di traffico nel momento in cui mi daranno una soluzione fattibile plausibile dirò ok mi va bene non aver più rumore fa parte dell'evoluzione mi terrò un mio cesso a scoppio con un otto cilindri me lo tengo da usare e quello che faccio fatica a te è purtroppo e qui io ti chiedo scusa non posso essere di supporto che non vedo ancora una fattibilità che permetta a tutti noi non sto dicendo al signore che la sola può permettere ai clienti che compreranno elettere e saranno felicissimi non ho dubbi quando me la farai provare che arriverà rimarrò estasiato perché è chiaro che è così io mi faccio solo un grande domanda sul fatto che non sia ancora purtroppo la soluzione che ci consenta di muoverci tutti e fare quello che dobbiamo fare per vivere non sto dicendo per andare a giocare a tennis al golf o a divertirci e basta purtroppo c'è anche quella parte lì per cui ti chiedo scusa in questo caso capisco che il mondo sta cambiando nel momento in cui mi spiegheranno che sarà fattibile per tutti potersi muovere lo accetterò come faremo tutti in questo momento facciamo più fatica non devi assolutamente chiedermi scusa perché io la penso allora io adesso ho parlato del prodotto ma la penso esattamente come te che secondo me ad oggi poi soprattutto in Italia io non allora ma adesso ma sai cos'è la cosa che mi fa cioè la cosa che mi fa più paura a me è che allora con una vettura così che adesso può essere una vettura veramente utilizzabile nel senso che comunque è un'elettrica che con 20 minuti la ricarichi in fast charge e quindi non hai questo grandissimo bisogno di tempo che c'è non è l'ora non devi stare per un'ora per ricaricarla 20 minuti il problema è la stessa cosa io la penso esattamente come te è che se iniziano a funzionare tutte come funziona questa e tanta gente inizia ad acquistarla dove si va a prendere l'energia poi il discorso del sound e del rumore io ti dico sono perfettamente d'accordo però io durante la settimana uso una Q7 diesel e non fa un rumore neanche no no ma hai ragione è vero quello è assolutamente e poi poi però è chiaro che è chiaro che se tu mi devi far usare nel weekend una macchina che è silenziosa mi girano le scatole infatti io nel weekend o comunque anche durante la settimana appena posso adesso soprattutto che poi è uscita le mira e io quando accendo le mira inizio a fare dei sorrisi hai il godimento totale certo vado in godimento totale ma io sono anche io guarda anche per me è così ed è assolutamente è chiaro che se l'Elettre va presa per una macchina da utilizzare tutti i giorni al posto di una Q7 al posto di una macchina del genere che può essere una Q7 una Urus un Cayenne o comunque una di quelle di quelle vetture che chiaramente uno in autostrada per andare in giro tutti i giorni non è che abbia bisogno di 110 decibel dell'impianto poi è chiaro io vado vado in giro anche tutti i giorni con una macchina che fa 110 decibel 115 decibel e il Wrangler al mio Wrangler per fargli fare più rumore gli abbiamo fatto uno scarico libero con un catalizzatore basta perché almeno fa un po' di rumore ok ascoltami siamo concentrati molto sul fatto sul discorso elettrico ci stava assolutamente però vorrei che tu mi fai fare una pausa velocissima al rientro e vorrei che tu ci spiegassi a livello di telaio cioè tutti quegli aspetti che ci fanno capire meglio che parliamo di una notte svera vorrei che ce li spiegassi per cui torniamo su elettrico e poi passare a Emira perché è l'altra grande novità che vedo lì alle tue spalle e spero presto tu mi faccia provare per cui abbiamo trascurato quelle parti di tecnica che secondo me ai nostri amici ai tuoi amici ai tuoi potenziali clienti agli appassionati lotto si interessano per cui dammi solo il secondo e torno a Stefano D'Arst in BB Racing senti la potenza balsamica di Golia Active Plus respira Golia Le grandi occasioni Fassina Volkswagen Polo Comfort Line 5 porte 1.4 turbo diesel 75 cavalli vettura con 90.000 km l'attivo clima smartphone mirroring bluetooth fendinebbia cerchi in lega cruise control 14.900 euro per la tua auto scegli Fassina vieni a scoprire in JB Cars nuova Discovery Sport disponibile nelle motorizzazioni diesel ibrido benzina ibrido e anche plug-in con 50 km di autonomia totalmente elettrica vi aspettiamo in JB Cars a Monza Ciao ragazzi Marino Carburatori Bergamo da 40 anni a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza sulla vostra vettura banchi prova potenza ottimizzazione autodiagnosi qualsiasi cosa sapete dove trovarci nei numeri sovraimpressioni ciao a tutti ciao ragazzi ecco il modo giusto di affrontare la nuova sfida della mobilità la gamma 350 Honda il fantastico SH in pronta consegna presso Motostar con finanziamento fino a 36 mesi senza interessi il fantastico ADV 350 ottimo compagno di viaggio anche per le uscite domenicali e l'elegantissimo Forza 350 vi aspettiamo Kimoto concessionario moto e scooter a Paderno Duniano ampia disponibilità di veicoli delle migliori marche da Kimoto trovi sempre promozioni ed offerte speciali ma soprattutto tanta esperienza serietà e uno staff pronto a consigliarti al meglio ti aspetto vieni a trovarci senti la potenza balsamica di Golia Active Plus respira Golia eccoci qua ben ritrovati ti sei seduto appena ti ho visto che non eri più al tuo posto allora Stefano dici esattamente cosa c'è sotto a questo meraviglioso vestito che Lotus ha disegnato sulla base delle esperienze maturate con le vetture chiaramente di indole sportiva super sportiva che ha sempre fatto il prodotto allora diciamo che vabbè lo si può vedere anche dalle immagini quello su cui hanno lavorato tantissimo è l'aerodinamica ad esempio guarda i due buchi che si vedono perfettamente a queste immagini sul cofano anteriore sono collegati a due prese d'aria davanti e servono appunto per quelle quelle due quei due fori lì diciamo che servono per ridurre l'attrito aerodinamico per aumentare un po' di carico che poi abbinate invece alla presa d'aria anteriore ecco se la fermiamo qua sotto la scritta Elettra c'è una presa d'aria quella presa d'aria lì che vedete a forma trapezoidale quella lì è una presa d'aria attiva cosa fa? Lì praticamente ad una certa velocità la presa d'aria diciamo che nella combinazione tra velocità temperatura di freni e temperatura delle batterie la presa d'aria anteriore si apre e si chiude anche questo per migliorare il nell'andamento per ridurre chiaramente la resistenza all'aria che fa tutta la superficie della vettura e quei triangolini lì che ha anteriormente si aprono e si chiudono in corrispondenza poi anche dell'ala posteriore però aspetta a farla girare perché volevo aggiungere lateralmente nelle due nei due estremi laterali ci sono altri due buchi da cui è molto bello vederlo sulla macchina dal vivo da cui si vede direttamente la ruota il pneumatico e quei buchi lì servono appunto per far passare l'aria nella parte poi posteriore nella vista laterale nella parte posteriore ecco nella parte posteriore vicina proprio attaccata la portiera dietro alla ruota dietro alla ruota lì c'è un'altra presa d'aria abbastanza pronunciata che è anche molto bella esteticamente e ad esempio tanta gente tempiera mi diceva guarda che bella presa d'aria estetica no non è una presa d'aria estetica perché quella presa d'aria lì serve per estrarre l'aria che viene dal flusso davanti ed è per quello che si vede la ruota dalla presa d'aria all'anteriore si vede la ruota perché poi quel flusso d'aria lì spinge l'aria che si si crea con il rotolamento del pneumatico e crea una pressione sotto al passaruota questa questa pressione qui viene scaricata appunto dalla presa d'aria che c'è vicino alla portiera e che poi infatti vedi vedi anche come qua si vede bene come è sagomata la portiera la portiera proprio sagomata in modo perché il flusso d'aria si vada ad incanalare in quella sagoma che vediamo quella piega quell'ombra che c'è più scura dal grigio al bianco di questa di questa immagine si incanala lì nella parte posteriore invece ci sono due due buchi che ricordano un po' quelli anche di emira e quelli sulle vaia sono esagerati e anche quelli servono per appunto estrarre dalla parte posteriore dal passaruota per estrarre questa pressione d'aria che altrimenti genererebbe diciamo genererebbe attrito aerodinamico e in più sicuramente non va a favore del carico aerodinamico sempre nella parte posteriore invece poi sopra l'unotto eccoli qua si vedono benissimo quelli due alettine che vedi che si sono viste te le vado a ricercare te le vado a prendere eccola eccola lì dammi un secondo che qui lo stop frame con la tecnologia del diciottesimo millennio eccolo eccolo lì quella lettina che vedi quelle due alettine che anche quelle lì potrebbero sembrare di una nota stilistica in realtà non è solo stile infatti non è stile perché quelle due alettine lì servono per direzionare il flusso d'aria che arriva dal dal tetto diciamo sull'alettone che in questo caso adesso in questo momento la vettura ce l'ha chiuso ma poi ad una determinata velocità quella lettone lì si apre e direzionando con quella lettina il flusso d'aria sull'alettone chiaramente si migliora il coefficiente di attrito si migliora il carico aerodinamico della vettura dietro poi è bellissimo perché nella parte posteriore dietro c'è un diffusore bellissimo che per essere diciamo che sui SUV diciamo non sono così proprio cioè siamo abituati a vederli magari su macchine su delle GT ecco non su SUV e poi altre cose che denotano quindi diciamo che a livello aerodinamico hanno lavorato veramente tantissimo chiaramente sia per la stabilità che per la penetrazione aerodinamica e quindi per rendere efficiente la macchina e l'efficienza era assolutamente nella filosofia di Chapman perché ci ricordiamo che lui diceva di di rendere le cose semplici e di alleggerire la vettura e per la sua filosofia che era inutile avere un motore spaventoso con un sacco di cavalli che poi sono difficili da gestire è una macchina che pesa tanto è meglio avere un motore più leggero una vettura più leggera e allora poi così si va forte e si è anche un po' più parsimoniosi diciamo che le Lotus probabilmente è forse anche per quello che la prima Tesla della Tesla Roadster è stata fatta proprio sul telario dell'Elisa perché comunque sono già molto di loro eco-friendly perché comunque tra tutte le vetture in circolazione essendo così leggera hanno bassissimi consumi molto efficiente qua vediamo il passaruota in fibra di carbonio che ecco anche c'è l'utilizzo di tantissimo carbonio è stato tra l'altro utilizzato con una tecnologia innovativa perché viene praticamente tutti i pannelli delle portiere all'interno anche dei sedili sono tutti sono fatti di fibra di carbonio riciclata quindi viene sminuzzata tagliata e rimessa in autoclave e chiaramente dal punto di vista estetico non si vedrà più la fibra il tessuto della fibra di carbonio però è comunque molto bello esteticamente da vedere e allo stesso tempo è caratteristica certo è super super leggero dinamicamente dinamicamente quello che quello che ha la macchina è che è che comunque guarda io ti dico io tutte le lotus che ho provato bene o male tu provi le lise le xige le vora quando le provi ogni volta che ne guidi una dici lo capisci con una lotus ed è bello perché la sensazione che ti danno sul volante sulla frenata l'inserimento diciamo che è un po' come se tu avessi come se riuscissero a ridurre la distanza che c'è tra te e l'asfalto no? e te lo fa sentire in un modo veramente e lo stesso bene o male sono riusciti a fare con con Elettra perché comunque se uno dovesse provarla ben dato sono convinto che se gli facessero uno che ha guidato l'otus chiaramente che ha un buon livello di esperienza e capisce quello che sto dicendo in questo momento se ne rende conto se ne rende conto perché nei cambi di direzione di inserimento nella frenata è una vettura che è dinamicamente veramente trepitosa e e poi vabbè la il fatto comunque vabbè di avere di avere così così tanti cavalli sicuramente non dà fastidio è chiaro che quanti sono perché questo non ce l'hai ancora detto facci capire stiamo parlando di la macchina la macchina verrà venduta in tre in tre versioni la la base sarà una vettura da adesso precisissimamente non me lo ricordo però 98 parte da 98 mila euro col motore da 600 cavalli e col motore da 600 cavalli è la vettura base poi c'è la S che costa 124 mila euro e ha sempre motore da 600 cavalli e però a differenza della base può essere ha più colori di scelta la base ne ha solo due ha gli interni più rifiniti ah ecco un'altra cosa che hanno fatto a livello di per la sempre per la leggerezza comfort e anche il fattore di essere eco friendly sono questi interni che sono in in lana riciclata e che è molto leggera molto traspirante super super confortevole però ed è leggerissima poi chiaramente sulla versione S si possono si possono personalizzare gli interni in questo caso l'abitacolo è quello del 2 più 2 quindi ci sono due sedili uguali davanti e dietro però si può avere anche anche con 5 posti e in più la S ha già i cerchi più grandi da 22 e ha un po' di componenti in carbonio e ha la possibilità di avere più accessori ha anche l'impianto hi-fi KEF che è straesagerato suona a livello di alta fedeltà veramente un suono pazzesco per gli amanti dell'alta fedeltà a me l'alta fedeltà piace e devo dire che suona veramente bene KEF è un'azienda che conoscevo già da un sacco di anni e fa dei prodotti veramente esagerati e di alta fedeltà diciamo e poi c'è la versione R invece la versione R che ha 917 cavalli a differenza della S perché uno poi per smentire quello che uno può pensare ah vabbè ma tanto con l'elettrico gli avrà modificato solo la gestione elettronica invece no perché cambia veramente radicalmente diciamo che il salto che comunque c'è dalla S alla R in termini di prezzo c'è assolutamente anche anzi forse ancora di più in termini di contenuti perché oltre a avere la motorizzazione diversa quindi da 917 cavalli a un cambio a due velocità e quindi diciamo che il delta prezzo c'è c'è perfettamente è una macchina sì è giustificatissimo è una macchina che se uno la parogona ad una macchina di oggi alle prestazioni di una macchina di oggi è una macchina che pesa 2000 kg se uno prende una macchina di concorrenza che può avere intorno ai 600 1000 cavalli deve andare per forza su una Urus su una macchina del genere che ha anche lei 660 cavalli 650 adesso precisamente non me lo ricordo però comunque però il delta prezzo da da una da un'elettra a una Urus insomma è abbastanza sono quasi si fa sentire ok 100-120 mila euro va bene hai fatto una parentesi meravigliosa sull'elettro e io prima di lasciarti andare se mi fai fare ancora un salto in regia poi torniamo facciamo un attimo una passata su Emira alla quale magari poi gli dichieremo una puntata speciale magari la proviamo insieme se hai voglia se è disponibile perché anche capire le sensazioni della guida è stra fondamentale per questa che a tutti gli effetti rimarrà nella storia e qui un'altra spada che trafigge il cuore di noi appassionati Lotus sarà l'ultima vettura termica del marchio Lotus per cui speriamo duri per tanti anni non so su che progetto si sono basati però se ne parliamo tra un minuto rientro da te poi ti lascio libero per la tua serata arriviamo subito ragazzi senti la potenza balsamica balsamica di la balsamica di Golia Active Plus respira Golia le grandi occasioni delle moto in pronta consegna quindi tutta la gamma Yamaha che vi aspetta abbiamo un vasto assortimento multimarche di usato nella sede di Saronno e abbiamo i tecnici specializzati che vi aspettano per farvi scoprire le offerte che ci sono sulla manutenzione sul cambio gomme e su tutto quello che bisogna fare per utilizzare la vostra moto il vostro scooter anche in questa stagione grazie vi aspetto ciao vi aspettiamo in JB Cars per scoprire e provare su strada la nuova Range Rover Velar disponibile in motorizzazioni benzina ibrido diesel ibrido oppure plug-in con un'autonomia solamente elettrica di 50 km vi aspettiamo in JB Cars ciao ragazzi sono Giovanni carburatori Bergamo da 40 anni che retifichiamo questi carburatori di queste macchine e continuiamo a farlo se avete bisogno di qualcosa rivolgetevi i numeri qua sotto grazie a tutti senti la potenza balsamica di Golia Active Plus respira Golia eccoci qua guarda che regista mi hai spostato l'inquadratura me la fai vedere che meraviglia come sta andando come è stata recepita dai clienti Lotus è stato uno step importante perché non dimentichiamo che comunque quelle fantastiche Elise Exige alle quali siamo e rimarremo affezionati per sempre erano un progetto insomma che qualche anno l'hanno portato avanti per cui era necessario da questo punto di vista un upgrade no? era sì era necessario ce n'era ce n'era veramente bisogno diciamo che quello che forse ci sarebbe stato bisogno prima era veramente di un marchio come come Gili come i nuovi proprietari perché già con Evora diciamo che Lotus aveva fatto un bellissimo prodotto però un prodotto fantastico che però non è stato capito a me comunque Evora ma come anche Elise Exige tu lo sai Franco io ho avuto delle soddisfazioni grazie a Elise Exige anche nelle gare quello che abbiamo fatto però anche Evora è stato un prodotto esagerato di Emira ce n'era bisogno e ce n'era bisogno che un prodotto come la piattaforma che avrebbe sostituito Evora fosse presentata nel modo in cui avrebbe meritato anche Evora perché Evora purtroppo è stata secondo me il problema di Evora è stato che è stata presentata in un modo sbagliato e poi comunque non c'era anche la capacità di poterne produrre un tot infatti anche Evora ne sono state prodotte pochissimo ed è anche per quello che anche Evora sta salendo tantissimo di prezzo e Mira è un prodotto esagerato guarda io ti dico io ho già fatto 2000 km sulla mia che adesso è quella lì in quadratta è dello stesso colore di questa qua che stiamo vedendo ed è veramente straesagerata rispetto all'Evora hanno migliorato tantissimo l'inserimento l'inserimento la frenata anche il cambio di direzione è veramente super rapido e bene o male quello che è il telaio bene o male è molto simile a quello di Evora è uguale hanno cambiato però tutto il gruppo sospensioni garantire olio amortizzatori molle e hanno fatto davvero un lavoro strepitoso guarda io quello che dico sempre a tutti è che a livello di utilizzo quando tu quando tu la usi e provi l'inserimento che ha dici aiuto ma se inserisci così tanto sembra che inserisca talmente tanto che a un certo punto ti parte dietro invece poi dietro ci sta in un modo incredibile ha una trazione si ti segue tantissimo ed è veramente bella tu lo sai per me le Lotus più belle di tutte le piattaforme più belle di tutte sono sempre state Elise e Evora sono i due Lotus che mi piacciono più di tutte a guidare poi l'Exigen è stupenda da guidare è bellissima anche l'Exigen però se devo dare il mio giudizio per la vettura le vetture migliori dal punto di vista di bilancio l'Elise e l'Evora mi piacciono di più chiaramente poi ti dico ti dico anche un'altra cosa che avendoci lavorato in un modo abbastanza profondo su entrambe le macchine chiaramente l'Evora ha delle superfici che ti permettono di lavorare in un modo completamente diverso dal punto di vista aerodinamico e lo si vede col risultato che sono riuscito ad ottenere con Emira e quindi è chiaramente una vettura nettamente superiore rispetto all'Elise sia l'Evora che l'Evora è chiaro che purtroppo fanno parte di una generazione di vetture differente e per cui dovendo stare a passo con tempo e dovendo essere immatricolate nel momento in cui devono essere immatricolate devono avere per forza gli airbag laterali devono avere tutta quella serie di componenti che se no non ti permettono tu ad oggi tu pensa come fai a produrre una vettura e non puoi venderla in America perché non hai gli airbag laterali e non hai determinate cose e l'Ease ed Exige hanno smesso di venderla in America che l'America è sempre stato il paese numero uno e la Lotus cosa deve fare? Deve continuare a produrre una macchina che la fa fallire comunque smetterebbe perché se la Lotus continuasse a produrre una macchina che non può vendere e la può vendere a quattro gatti come fai ad andare avanti? E' questo che bisogna capire che comunque un'azienda deve sopravvivere e se il mercato richiede determinati prodotti certi prodotti li devi fare poi che quel prodotto si distacchi dalla ma no è chiaro che poi è il marchio che devi fare mettere la propria filosofia la propria tecnica la propria conoscenza la propria deformazione professionale dentro la piattaforma che in quel momento devi costruire perché il mercato la richiede punto e basta ragazzi da oggi col domani siamo stati costretti tutti ad andare in giro con la mascherina ah ma no stiamo tradendo la filosofia dell'essere umano ma in quel momento lo dovevamo fare punto c'è sì no direi che questa scelta questa scelta che hai spiegato perfettamente è una scelta molto più piacevole ragionevole e logica rispetto a quella della mascherina che non entrerà mai nel nostro cioè qua voglio dire hanno fatto una scelta che apprezziamo perché il prodotto deve essere straordinario io prima di lasciarti bisogna farti due domande una forse un filo più ma cattiva che ti voglio nel senso che sapendo come lavorate essendo stato molto vicino alla vostra realtà per tanti anni mi chiedo come farà PB Racing che ha sempre dimostrato di essere un passo avanti a tutti gli altri operatori di questo marchio sul territorio nazionale ma anche all'estero ma anche in Inghilterra ve la giochereste col migliore anzi probabilmente lo battereste come farete con un prodotto come Elettr a dimostrare quello che sapete fare in più rispetto agli altri e invece la domanda che mi sta tanto a cuore è che cosa succederà della della Lotus Cap Italy con la Lotus LIS PBR se continuerà o nel progetto prossimo futuro c'è quello di di buttarsi su un prodotto chiaramente più costoso diverso come Emira bene guarda allora dal punto di vista di come fare la differenza su un prodotto come l'Elettr è abbastanza facile nel senso che comunque quando tu sai come dinamicamente far funzionare una macchina e anche aerodinamicamente è ancora diventa ancora più sottile il modo di sarà ancora ancora molto più importante in modo in cui la macchina verrà regolata verrà preconsegnata verrà sistemata perché poi volenti o volenti o non volenti purtroppo quello che quello che ti dà il mondo il mondo delle corse è tanta esperienza nel mondo delle corse ma io dico il mondo delle corse è vero perché oggi parliamo di di corse adesso non voglio denigrare nessuno però ci sono delle cose che vengono chiamate corse che non sono corse ecco io dico le corse vere chi le ha vissute veramente nel profondo ha chiaramente capito e carpito delle cose che altrimenti non si riescono proprio a capire come se io dovessi se tu non provi quel sentimento non io te lo posso descrivere ma nel momento in cui lo provi hai veramente capito di cosa sto parlando è come quando io ti dico che elettro l'iso sono belle da guidare ma finché tu non le provi e lo stesso è vedere determinate reazioni o funzionamenti di una vettura o magari vedere il consumo di un pneumatico o come appoggia per terra o come funziona che ti fa capire veramente dinamicamente quanto sia importante farla funzionare bene e farla appoggiare bene sulle quattro ruote questo su una vettura ritorno ancora alle vetture telecomandate il lavoro che si faceva sulle vetture elettriche era mamma mia dovevi andare proprio a cercare il pelo di tutto perché il consumo della batteria era fondamentale e tu dovevi quindi avere la macchina che era scorrevolissima ma nello stesso tempo dovevi comunque avere la macchina che tenesse bene la strada che fosse facendo guidare e queste sono tutte cose che fanno veramente tantissima differenza quindi da quel punto di vista lì potremmo continuare tranquillamente a fare a far differenza e poi comunque c'è sempre il settore motorsport che andrà avanti l'Eliso è una piattaforma che dal punto di vista dell'Otus Cup non verrà sostituita da niente quindi può essere che un domani se ci sarà ci saranno le possibilità economiche da parte dei Lotus Driver e di tutti potrà magari un domani essere introdotto un altro prodotto che può essere l'Emira in un trofeo ma l'Eliso sarà sempre è un prodotto che ripeto come lo dico a tutti non c'è una piattaforma di macchina che la va a sostituire e quindi rimarrà rimarrà sempre la macchina da corsa e il diciamo il trampolino di lancio per poter correre in macchina divertirsi e e e e passare e passare un weekend di passione come quello dell'Otus Cup di cui stiamo vedendo l'immagine adesso e e poi e poi vabbè poi ci saranno altri altri programmi con con l'Emira l'Emira GT4 magari un'Emira Cup però ripeto l'Emira Cup non sostituirà l'Elise l'Emira Cup sarà un altro un altro step è come dire adesso faccio un esempio su un altro marchio blasonatissimo è come dire il Carrera Cup o la Cayman sono due piattaforme di vetture diverse con due costi differenti perché il Carrera è una macchina molto ma molto più costosa della Cayman e quindi diciamo che l'Elise rimarrà sempre comunque la piattaforma di entry level che potremo offrire come Lotus come Lotus Cup dal punto di vista corse bene Stefano hai fatto bene ci hai tranquillizzato perché era comunque una domanda che volevo farti non ci siamo non ce l'avevamo ancora sentiti però sicuramente il dubbio uno dice capo di cosa succede l'Elise viene spazzata giustamente ci sarà un'evoluzione però quella rimane perché rimane la più amata dai Lotus Driver che cosa magari magari ci inventeremo qualcosa sì ci potremmo inventare qualcosa dal punto di vista anche aerodinamico anche qualcosa simpatica c'era già un mezzo progettino che non sta a dire però molto simpatico sì sì e che però vabbè quest'anno non lo adotteremo ancora poi vediamo comunque però ecco cioè no no è interessante sicuramente 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 il lavoro il lavoro su una vettura elettrica o su un motore elettrico probabilmente molto meno entusiasmante che però c'è cosa il mondo più o meno sta prendendo quella direzione lì perché io cioè a me quello che mi ha veramente scioccato e sono andato anche un po' non dico in depressione a un certo punto però quando ho sentito dire che Ford sta producendo il suo il mito di F-150 pick up elettrico ho detto aiuto ma allora se lo fanno se lo fanno anche loro e l'ho fatto e ho sentito un mio amico un mio amico americano che mi ha detto no no ma qua stanno spingendo tutti sull'elettrico ma come anche voi me li voglio vedere in Georgia in Oklahoma andare lì nel Ranch e dirgli you know F-150 electric towing mamma mia non lo so non lo so non lo so no no anch'io comunque guarda io rimango che la benzina che puzza non mi dispiace è chiaro che questo lo ripeto perché andare in giro andare in giro con una Cayenne una Q7 tutti i giorni o una macchina elettrica tanto la Cayenne una Q7 non è che vado in giro con un V12 che gira a 9000 giri e mi fa godere durante la settimana poi se voglio godere tiro sulle mira esatto hai l'offerta hai la macchina il feriale e il festivo hai la macchina per il weekend e quella per il lavorativo non è male dai devo dire che siamo messi bene Stefano io ti ringrazio tantissimo mi è sempre un piacere stare con un amico per un'oretta grazie ai amici che ci hanno seguito e ascoltato ci vediamo presto perché quella bollide lì il bollidino lì azzurro vorrei che tu me lo facessi provare molto presto per cui preparati che sai che in zona ci sono più o meno sempre grazie Stefano D'Aste un caro saluto a tutti gli amici della BB Racing Maurizio Fortina e tutti i tuoi ragazzi ci vediamo poi tra l'altro alla festa di fine anno che sarà il 3 giusto di dicembre e poi vi daremo qualche indicazione in più vedrete magari dei video ciao Stefano D'Aste grazie ancora un caro saluto a tutti ciao 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 Franco ibrida diesel ibrida benzina e anche plug-in con un'autonomia totalmente elettrica di 50 km ti aspettiamo a provarla e vederla in JB Cars le grandi occasioni Fassina Fiat 500 L Cross 1.3 multijet 95 cavalli la vettura a soli 23.000 km cerchi lega fendi nebbia cruise control ruota di scorta smartphone mirroring sensori parcheggio e clima il prezzo 23.900 euro per la tua auto scegli Fassina cosa ti porta fin qui la continua ricerca della bellezza una tecnologia che segue la tua immaginazione o semplicemente la voglia di non fermarsi nuova GLC il tuo posto nel mondo per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus ciao ragazzi Marino Carburatori Bergamo da 40 anni a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza sulla vostra vettura banchi prova potenza ottimizzazione autodiagnosi qualsiasi cosa sapete dove trovarci nei numeri sovraimpressioni ciao a tutti senti la potenza balsamica di Golia Active Plus respira Golia Balsamica di G phrases Balsamica di Golia